Questo veicolo ha alcune caratteristiche molto interessante sull'industria strutturale perchè abbiamo voluto eseguire la leggerezza a tutti i costi avendo una potenza molto limitata dei motori avendo un veicolo degeo è il punto chiave un altro veicolo che abbiamo sono i regolamenti dedicati quindi non possiamo spaziare in qualsiasi dimensione c'è un punto a modo piccolo grazie al finanziamento regionale che abbiamo avuto accesso a un sacco di risorse impensabili normalmente e ci abbiamo sentito di progettare il veicolo in maniera innovativa per esempio sia lo chassis quindi il fondo veicolo che il tetto sono fatti in un pezzo unico come possibile farvi in un pezzo unico? vediamo il procedimento mostrando nel slide quindi abbiamo la fresatura a controllo merito del modello in schiuma e questo richiede delle macchine estremamente grandi perché vedete che tutto sommato le dimensioni sono